E allora buongiorno, finalmente possiamo dirlo, possiamo dirlo ragazzi, it's match day, oggi la Juventus torna in campo, finalmente, quanto è passato? Quanto è passato ragazzi, una sosta nazionale che non finiva più, non finiva più, ma possiamo dirlo, l'ho sentita di meno, l'ho subita di meno rispetto alla prima. Questa è la mia opinione, questo è quello che ho provato e percepito, è una situazione un po' diversa da quella che ho provato nella prima sosta. La prima sosta sembrava veramente non finire più, è stata infinita. Questa, fra notizie, fra cose, è stata diversa, è stata diversa e sono contento che sia andata così, quindi oggi si torna in campo, oggi la Juventus affronta la Lazio, oggi affronta la Lazio e oggi la Juventus deve tornare a vincere. Parleremo un po' della partita, del pre-partita, quello che mi aspetto, quello che mi aspetto da Tiago Motta, che formazione secondo me andrà a mettere in campo, quale sarà la formazione che scenderà effettivamente in campo, chi secondo me farà bene, chi secondo me farà peggio, da chi mi aspetto grandi risposte e da chi invece mi aspetto una risposta concreta e definitiva, perché serve questo. Ragazzi, scusate, ci sono. Buongiorno, io vi ricordo, come al solito, prima di partire di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e di commentare il video, dicendomi la vostra, voglio sapere il vostro pronostico, voglio sapere cosa, cosa vi aspettate da questa partita e se anche voi vi aspettate risposte concrete da qualcuno. Che tipo di partita vi aspettate? Poi, nel caso, chi indovina il risultato, se dovesse indovinare il risultato, verrò qui e lo riprenderò nel commento e dirò, ha indovinato, quindi dai, un giochino così tanto per fare qualcosa di diverso. Allora, ragazzuoli, partita tosta oggi. Oggi sarà una partita molto tosta, sarà una partita impegnativa, sarà una partita che la Juventus non dovrà sottovalutare in alcun modo. Una partita che viene dopo la sosta, e sappiamo tutti quanto le partite dopo le soste siano impegnative e soprattutto a livello mentale, perché sconnettere per poi riconnettersi e risintonizzarsi sulla giusta frequenza non è mai facile, soprattutto se vai in nazionale dove cambia totalmente modo di giocare, dove cambia totalmente clima, clima anche di ambiente, cambia tutto. E ritornare a settarsi sulle giuste frequenze non sarà facile, soprattutto perché la Juventus poi è in piena emergenza, la Juventus fa fatica, la Juventus fa fatica a livello di numeri, cioè è contata là davanti, la Juventus è contata anche dietro e ribadisco, sarà una partita tosta. Penso ad oggi la più difficile, non per il blasone dell'avversario, che va comunque sempre rispettato, ma per le condizioni in cui ci arriva, sia chiaro, per le condizioni. Perché con Bremer fuori, con Nico Gonzalez fuori, con Konsei Sao fuori, con... Madonna mia, con Koppmeiners fuori, con il vicebraovic che non c'è, la Juventus è contata, la Juventus è contata, con fagioli mezzo rotto, è tosta. È tosta ragazzi miei, molto tosta e domani mi aspetto una risposta da Juventus. Domani voglio vedere la Juventus, domani voglio vedere la Juventus che si riesce a esaltare nelle difficoltà, che riesce a venire fuori nelle difficoltà. Voglio vedere Tiago Motta cosa si inventerà sulla formazione, si sta già parlando di un ipotetico 4-1-4-1 e vedremo, c'è un grande dubbio in difesa, un dubbio in difesa che andremo ad analizzare e speriamo si riesca a trovare il jolly perfetto della situazione. Ecco, una Lazio che ha recuperato Gendosi, una Lazio che ne va molto carica, loro sono molto forti sugli esterni, c'è un Bule di A che è clamorosamente in forma, c'è un Tati che è molto in forma, Rovella sta trovando la condizione giusta, quindi non sarà facile, non sarà assolutamente facile, ma la Juventus dovrà essere brava, dovrà essere brava a cercare di compattarsi e di trovare le proprie certezze, perché la certezza della difesa era un punto carico della Juventus, il centrocampo dovrà riuscire bene a far filtro e all'avanti bisognerà sfruttare tutte le occasioni che capiteranno, quindi da Vlaovic domani aspetto una partita seria, una partita tosta, una partita da Dusan Vlaovic, perché hai avuto due settimane di stop, ti sei riposato, ti sei caricato e adesso voglio che tu faccia bene, voglio che tu continui su quel, dove hai lasciato, devi continuare, questo è. Partiamo un po' dalla formazione che potrebbe scendere in campo, in Porta non ci sono dubbi, dovrebbe giocare Di Gregorio, anche perché poi martedì in Champions League giocherà Perin, visto che Di Gregorio è stato squalificato, difesa a 4, difesa a 4 formata da, si dice, Savona, Gatti, Caluro, questi due sono i due probabilmente che giocheranno sicuramente, e dall'altra parte c'è il dubbio, c'è il dubbio, Cambiaso, Cabal. Io ragazzi vi dico, su Cabal sono un po' dubbioso, ma perché l'hai completamente fatto sparire dai radar e adesso lo rimetti in campo in una partita così delicata? Mi stupirebbe. A meno che tu poi non voglia traslare là davanti Cambiaso e accentrare Ildiz. Vedremo, vedremo, però è un qualcosa che mi stupisce vedere Cabal ipoteticamente titolare, però, davvero, per me alla fine giocherà Cabal, ve lo dico qua, ve lo dico qua, domani per me gioca Cabal, poi vi dico anche da davanti chi gioca. Riapparirà Cabal, vedremo cosa succederà, però per me questa sarà la cosa, la linea difensiva. Quindi Di Gregorio in Porta, difesa a 4, Savona e Cabal sulle corsie, Gatti e Caluro, difensori centrali. Questo è, centrocampo in mano a Locatelli, tornerà a giocare, tornerà a far bene, domani mi aspetto una grande partita da parte di Loca, non sarà facile, affronterà il centrocampo della Lazio, sarà tosta, sarà tosta perché il centrocampo della Lazio è vero, è solido ed è forte, Baroni ha dato un'identità concreta alla squadra. La davanti poi giocherà per me Turam, gioca Turam e vedremo, vedremo Turam cosa si inventerà, perché Turam per me domani andrà a fare una partita molto dispendiosa, molto dispendiosa, correrà tanto, corre tanto, corre tanto secondo me, tantissimo, e vedremo se lui con i suoi palloni recuperati e con gli inserimenti riuscirà a far male. Però da domani mi aspetto una partita seria da Turam, una partita in cui va ad alzare il livello, soprattutto dal punto di vista mentale, perché col Cagliani l'ho visto bene per una parte, ma dopo si è totalmente spento, anche condizionato sicuramente dal cartellino giallo corretto, che si è preso per un intervento ingenuo, un intervento che potrebbe tranquillamente evitare. Poi là davanti ragazzi, qua vi dico la prima sorpresa che domani vedremo, domani per me giocherà Illiz trequartista, può essere, per me sì, per me è quello il ruolo di Illiz, quindi non capisco perché stupirsi, domani giocherà Illiz secondo me trequartista, vedremo poi, è una mia idea. Giocherà Cambiaso alto e, ma sapete che invece no? Secondo me Cambiaso, no, giocherà UEA e Cambiaso alto. Per me questi qua sono i due, torna UEA e giocherà Cambiaso e poi davanti Dusan Braulic. Domani ragazzi veramente bisognerà fare una partita seria, una partita ostica e una partita concreta soprattutto, perché ci saranno tante occasioni da tutte e due le parti, tanti contropiedi, tante pallone in cui bisognerà essere bravi al gestire di partenze e non bisogna sottovalutare nessun aspetto domani, nessun aspetto. Vedremo, vedremo come Tegomot è riuscito ad imbastire la squadra, come caricherà la squadra a dovere, come arriverà la squadra, perché poi col porto, con lo stoccar da sana a partita tosta. Questo è ragazzi, io vi aspetto nel post partita, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, a dimmi la vostra. Noi ci vediamo, un abbraccio, un saluto e ci vediamo presto. Ciao.